Ciao a tutti, sono a letto, infatti questo sarà un pillow talk, sono come vedete totalmente struccata e in camicia da notte, ma volevo comunque farvi questo video perché mi mancate, mi mancate tantissimo, già non avete idea di quanto vi manchi fare frequentemente video ASMR e anche se devo dire che in questo periodo sto soffrendo parecchio di video ASMR perché ne ho proprio tanto bisogno, questi sono e saranno per me due dei mesi lavoramente più intensi di tutta la mia carriera scolastica, sono anche gli ultimi due mesi e ormai meno di due mesi, un mese e venti giorni più o meno, perché sono intesi, ma intesi duro, intesi duro perché mi trovo a lavorare praticamente dalle dieci ore in su al giorno e quindi ovviamente ho pochissimo tempo di girare e soprattutto di caricare i video, il fatto è che avevo anche girato un video ASMR, ma ho avuto dei problemi, non so perché, ma nel momento in cui andavo a vederlo sul computer, l'audio risultava, cioè il video risultava molto più lento rispetto all'audio, non capisco perché, e mi è dispiaciuto perché ero riuscita a fare sto video una settimana fa, perché comunque io volevo mantenere il ritmo di un video, almeno un video a settimana comunque in periodo tesi, poi ovviamente quando uscirò dal periodo tesi riprenderò più frequentemente, però adesso di buon weekend volevo mettere, volevo caricare il video, il problema è che non me l'ha permesso, non so perché, e quindi tocca a vedere che vi vediate questa qualità di video è un po' precaria perché è buio e quindi la qualità del video sarà altissima, cioè già ve lo dico, però spero che comunque possiate apprezzare di qualche chiacchiera insomma, nulla come vi ho detto sto lavorando sulla mia tesi magistrale e l'upload della tesi sarà dall'otto al quindici giugno, non so se voi sapete di cosa sto parlando perché qui a Venezia funziona che prima di discutere la tesi, quindi il giorno ufficiale della discussione della laurea, praticamente una decina di giorni prima, 10-20 giorni prima tu praticamente devi caricare la tua tesi su una zona del sito internet di Ca' Foscari in modo che così relatori e correlatori eccetera abbiano modo di leggere la tua tesi prima di di discuterla in sede di laurea, quindi quest'anno il mio upload sarà dall'otto al quindici giugno, il periodo in cui avrò tempo di caricare, quindi praticamente adesso siamo il ventiquattro aprile, domenica, domenica sera e domenica 24, quindi praticamente un mese e venti giorni circa e non è tanto tempo, nel senso che comunque io ho già scritto più o meno un centinaio di pagine e quindi a livello di scrittura sono praticamente a metà, però diciamo anche che le idee le ho già raccolte tutte, so già bene come procedere che alla fine è quella la cosa più difficile, cioè capire bene come procedere, ma è già da un anno e passa che ho deciso che taglio a dare, quindi cioè non è che l'ho deciso da poco, però è già da un anno e passa che ci lavoro, ci ragiono su qualcosa, quindi voilà, e io volevo dire che se volete, per chi di voi fa l'università e magari deve fare la tesi triennale, eccetera, io potrei farvi un video su come ci si approccia a un lavoro di tesi e ovviamente io parlo di materie umanistiche, perché per esempio il mio ragazzo ha ingegneria e il suo lavoro di tesi è totalmente diverso, cioè il suo metodo di tesi è totalmente diverso al mio, cioè proprio sono due cose che non c'entrano nulla, però il metodo delle materie umanistiche praticamente più o meno, almeno per lettere, lettere antiche, lettere moderne, storia, oppure voce, insomma queste cose qua, beni culturali, poi magari dipende se le materie sono troppo specialistiche, comunque in ogni caso, se volete, potrei fare un video su come io mi sono abbracciata alla mia tesi, in che misura sono riuscita a costruire una tesi come di successo, per la triennale, e poi quando avrò discusso anche la magistrale, poi mi sovrò dire, quindi come riuscire a fare una tesi che vi dia il massimo dei punti, il mio caso a Ca' Foscari sono sei punti, e poi dipende dall'università, e quindi come rapportarsi con i relatori, come prepararsi appunto al momento della discussione, come prepararsi in generale la mia esperienza, veste di laurea e tutto, perché a me farebbe comodo, se ci fossero dei mila del genere, cioè avrebbe fatto comodo, ecco, nulla, per il resto domani è il 25 aprile, e il 25 aprile per me la festa è importante, perché a parte per il fatto della liberazione, a parte quello, ci sono altri due motivi perché è importante, uno perché è l'anniversario del matrimonio dei miei genitori, e questo anno fa 28 anni, due perché domani a Venezia, in intorni, è la festa di San Marco, perché domani è San Marco, quindi per Venezia c'è anche la tradizione per cui gli uomini devono regalare alle donne, il boccolo, il boccolo che cos'è? È il bocciolo di rosa, rossa, per cui domani, rose rosse per me, quando ero single me le regalava il papà, adesso che tra l'altro in questi giorni è anche qua il mio ragazzo, e me la regaleranno qui, insomma, però la tradizione è questa, è una tradizione molto carina, quella per il resto, ultimi film che ho visto al cinema, perché sapete che io sono appassionata di cinema, e mi capita magari ogni tanto, 6 di sera ho finito di studiare, anche per svagarmi un pochettino, siccome io abito a 5 minuti a piedi dal cinema, ogni tanto fanno al cinema, sono andata a vedere, vabbè, ancora due settimane fa, il cacciatore e la regina di ghiaccia, che mi è piaciuto tantissimo, perché il cast mi piaceva molto, perché mi piace sia, aspettate che dobbiamo vedere i nomi, Emily Blunt, Emily Blunt, mi piace tantissimo, Jessica Chester, mi piaceva un sacco, poi mi piace, vabbè, Charlize Theron, che figa, nazionale, e poi c'era quello che, l'attore che fa Thor, Thor, che è il mio preferito di Marvel, e, dai, che amore, vabbè, e poi ho visto il libro della giungla, che vi consiglio, è stupendo, è stupendo, bellissimo, questa sera ho visto un altro film, molto bello, perché volevo vedere Mr. Chocolat, ma sono arrivata tardi, cioè nel senso che l'hanno già tolto, non capisco perché, l'ho andato praticamente 10 giorni fa, e adesso l'hanno già tolto, pace, allora, siccome non c'era quello, siamo andati a vedere un film che vi consiglio, veramente vi straconsiglio, di andare a vedere in questi giorni, che è Zona d'ombra, con Will Smith, e praticamente parla di questo medico che scopre una malattia che è causata dalle botte che la testa si prende quando si gioca a football americano, per cui cosa succedeva che a forza di tutti questi trovi cranici, si crea praticamente un, cioè si creano appunto delle macchie, per cui, diciamo che si diventa pazzi, si sentono le voci, insomma si impazzisce, poi c'era tutta questa gente che si suicidava, eccetera, poi c'è tutto tutto il casino, perché ovviamente la compagnia del football americano non vuole assolutamente che questo pubblichi la sua scoperta, perché ovviamente è una multinazionale del genere, e non voleva assolutamente che la fama fosse rovinata da questo medico, insomma, c'è tutta la vicissitudine, è molto bello, me lo consiglia davvero lui Will Smith, è una garanzia, e nulla, quindi nulla questo, per il resto, niente, un po' di sfighe collegate alla mia tiroide, nel senso che, dall'analisi del sangue, è risultato che ho un ipotiroidismo pazzesco, perché ho il TSH a 13, quando il massimo dovrebbe essere 4, quindi ragazzi, adesso ho aumentato un po' la dose dell'ormone che già prendevo, per la tiroide, vabbè, nulla di che era, non è che abbia tutti questi sintomi, però, va bene, per il resto, niente, spero di aver vinto un po' di compagnia, e niente, fatemi sapere se volete quel video sulla tesi, vi mando un grande bacione, e buonanotte, ciao!